L'ideale sarebbe che ogni femmina si facesse il suo replicante maschio e viceversa. Io ne vorrei una con le labbra carnose e la fossetta nel mento e un mazzo di fiori finti in mano. Età dai 24 ai 38. Già facciamo 30 va, depilata per bene. Nel cervello le ricreo un passato qualunque, così so in partenza che quanto mi racconterà di lei sono un balle. E parto avvantaggiato, lei è una replicante, perciò non invecchierà, avrà sempre 30 anni. Io per un po' sarò suo marito, poi suo zio, poi nonno, infine eredità. Solo che anche i suoi fiori non invecchieranno mai perché sono finti. Lei mi riporterà sulla tomba, gli stessi fiori, ogni volta che verrà a trovarmi. E allora sì che dubiterà.